Un'altra importante tappa a sostegno della mia candidatura di Fardelli Sindaco. Oggi a Cassino abbiamo inaugurato la nostra sede elettorale nel cuore della città a dimostrare che siamo pronti a iniziare a governare questa città di Cassino. Tanti amici, tanti simpatizzanti, tanti candidati, tanti giovani e questo sta a testimoniare che c'è in città un certo fermento a favore della mia candidatura a sindaco, primo cittadino della città di Cassino. In maniera graduale sta crescendo in città questo sentimento a mio sostegno e la mia squadra è pronta per affrontare ulteriori momenti di condivisione con la città. Nelle prossime settimane usciremo con i punti programmatici che qualificheranno il nostro momento di impegno a beneficio della città di Cassino e avvieremo subito dopo un momento di confronto con le altre forze civiche e partitiche all'interno della città di Cassino per poi arrivare anche a ulteriori momenti di accordi politici con tutti coloro che vogliono intraprendere questo percorso per la vittoria di Fardelli Sindaco. La sede è posizionata nel cuore della città di Cassino a testimoniare che vogliamo colpire proprio con la nostra campagna elettorale il cuore dei cittadini di Cassino, portarli a una partecipazione attiva, portarli a voler condividere dei momenti di ascolto non soltanto con i cittadini ma anche con le associazioni, i movimenti civici, i partiti e quindi questo sarà anche un laboratorio all'interno della nostra città un laboratorio per definire anche quei punti programmatici che devono qualificare il nostro programma elettorale.